Da oggi il piccolo Ruben, bimbo di due madri sposate in Spagna, è nuovamente iscritto nel registro anagrafico del Comune. Una battaglia vinta da Daniela Conte e Marta Loi, che con il sostegno dell'amministrazione comunale, costituita parte civile in giudizio, incassano il sì della prima sezione civile del Tribunale di Napoli e si vedono finalmente riconosciuti i propri diritti. Tornano ad essere una famiglia. I giudici hanno infatti respinto la decisione del prefetto che nel 2015 annullò la trascrizione anagrafica con due donne e genitori e ordinato all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ritrascrivere l'atto di nascita del minorenne. Questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo la nuova iscrizione nel registro dell'anagrafe comunale è avvenuta per mano del sindaco Luigi De Magistris alla presenza di Ruben e delle due mamme. Questa è una seconda vittoria per quanto riguarda la trascrizione del documento di Ruben perché una prima già c'era stata che grazie all'amministrazione napoletana siamo riusciti ad avere un documento e dopo quest'annullamento parziale dove Marta scompariva da diciamo ovviamente Cartaceo perché siamo una famiglia. Quindi questa seconda vittoria conferma che è importante la lotta in questo paese per i diritti dei nostri figli. Primo caso in Italia in cui consegniamo, essendo il primo l'ho voluto fare con la mia firma, il certificato con cui risulta che Ruben è iscritto nel registro dell'anagrafe del Comune di Napoli. Diritti pieni a un bambino, ogni bambino ha diritto ai medesimi diritti di ogni bambino e poi una grande battaglia umana, giuridica, morale, istituzionale, amministrativa. Due donne che hanno coronato un sogno e che questo sogno poi si tramuta in pienezza di diritti nella città di Napoli è una cosa che mi riempie di orgoglio da napoletano e chiaramente anche da sindaco perché abbiamo dovuto conquistarlo questo giorno, non è stato facile come sapete. Nato il 3 agosto scorso a Barcellona, in Italia Ruben è il primo figlio riconosciuto di una coppia italiana omosessuale. Ci hanno contattato molte coppie di italiane e italiane all'estero e quindi questo caso apre un precedente molto importante. Grazie. 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 Grazie.